La lezione di oggi dovrebbe essere abbastanza piacevole perché per prima cosa andremo a fare un paio di teoremi piuttosto noti e che sono interessanti sia per l'enunciato ma anche per la dimostrazione Allora il primo teorema si chiama teorema degli inferi I quali se il teorema sono le seguenti Si ha f, una funzione definita su un intervallo chiuso a b a valori nere f continua in x per ogni x appartenente da b Qua lo scrivo così perché ancora non abbiamo usato una notazione poi useremo la notazione quando una funzione è continua su tutti i punti di un insieme si dice che è c0 distinzione poi lo riscriveremo anche a parte però scrivere così o scrivere così sarà la stessa cosa in matematica cerchiamo sempre le applicazioni oltretutto mi viene anche bene perché così sottolineo quest'ipotesi perché quest'ipotesi è essenziale qual'è l'annunciato, qual'è la tesi? c'è un'altra ipotesi che f di a per f di b sia negativo cioè la funzione assuma sugli estremi dell'intervallo valori di segno forse allora tesi esiste un punto, lo chiamiamo così, compreso tra a e b tali che f di xi che è uguale a 2 se vi da fastidio la lettera xi lo chiamate x con 0 chiamatelo con lo pari però in realtà è meglio chiamarlo xi perché poi x con 0 e x con 1 lo differeremo per l'altro allora ricapitoliamo io so che ho una funzione continua sull'intervallo chiuso che cambia segno sugli estremi dell'intervallo sono sicuro che da qualche parte all'interno dell'intervallo ok? adesso facciamo prima la dimostrazione poi facciamo degli esempi per far vedere che le ipotesi sono essenziali quindi se vengono meno queste ipotesi o quelle ipotesi basta una delle due che viene meno e il risultato può ovviamente non essere vero allora dimostrazione cerchiamo di farla almeno in buona parte su questa lavanda allora facciamo il caso che f di a sia minore di 0 ed f di b sia maggiore di 0 altrimenti cambiamo segno alla funzione allora se il prodotto f di a per f di b è negativo vuol dire che i segni di f di a e di f di b sono apposti quindi o succede questo o succede il contrario se succedesse il contrario basterebbe cambiare segno alla funzione e meno f soddisferebbe le ipotesi però quando a quel punto basterebbe applicare il teorema meno f trovare un punto di cui meno f sia nulla se sia nulla meno f sia nulla quindi possiamo supporre che f di a sia minore di 0 f di b sia maggiore di 0 lo scrivo altrimenti lo scrivo altrimenti il diciamo le ipotesi si applicano a da funzione meno f allora faccio qua una figura della il grafico della funzione f di a è negativo f di b è positivo funzione continua da un punto di vista grafico questo significa che quando andiamo a disegnare il grafico lo dobbiamo disegnare senza mai staccare in questo caso il gesto della lavagna o la pena dal punto allora in qualche modo è intuitivo che io per passare da sotto l'asse delle ascisse ovviamente ovviamente io qui ho nel mio grafico vedete di zeri ce ne stanno anche più di uno però potrebbero essercene anche solo due o solo uno no? qui la funzione invece di scendere così basse e salire il pezzo qui e il pezzo f di qui però uno ci deve stare per forza almeno uno allora come funziona la dimostrazione del terreno? poniamo ci sono più dimostrazioni a seconda dei testi a me piace questa perché è costruttiva cioè non solo vi dice vi dimostra che lo zero esiste vi dice anche come trovarlo ovviamente lo troviamo con un algoritmo quindi lo approssimiamo allora poniamo x con zero diciamo a con zero uguale ad a e b con zero anzi chiamiamole a con uno e b con uno noi le successioni abbiamo sempre fatto partire gli indici di a con uno b con uno uguale a un poi poniamo c con uno uguale a con uno più b con uno mezzi quindi poniamo il punto medio in questo caso in questo caso diciamo che il punto medio sta qua questo è c con uno e allora cosa facciamo andiamo andiamo ad esaminare f di c con uno allora se f di c con uno è uguale a zero uguale a zero allora ci fermiamo perché noi uno zero della funzione andavamo provando andavamo a cercare se f di c con uno è uguale a zero se f di c con uno è uguale a zero vuol dire l'abbiamo trovato se f di c con uno è invece positivo dobbiamo fare qualcosa se f di c con uno è negativo dobbiamo fare qualcos'altro adesso andiamo a vedere più forte ora prendete questo caso qui adesso voi vedete il grafico della funzione quindi sapete che la funzione ha tre zeri e quindi sapete che c'è uno zero di qua e ce ne sono due di qua però se io metto un cartoncino qua sopra cioè vi nascondo il grafico della funzione e voi sapete soltanto che f di a è negativo f di c con uno è positivo ed f di p è positivo dove siete sicuri che ci sarà ancora uno zero? a sinistra o a destra? a sinistra c'è il cambiamento di segno allora se cioè noi se noi abbiamo fede in quello che abbiamo enunciato come qui ci deve stare uno zero perché c'è il cambiamento di segno anche qui ci deve stare uno zero perché c'è il cambiamento di segno allora cosa faremo? a con uno a con due rimarrà a con uno p con due lo porremo uguale a c con uno poi corremo vabbè quello lo facciamo dopo vedendo male per tutti nell'altro caso se f di c con uno fosse stato negativo in quel caso il cambiamento di segno lo avrei avuto a destra quindi mi sarei dovuto spostare dalla parte destra quindi in quel caso dirò a con due uguale c con uno mentre b con due uguale b con uno dopo di che porremo a con due scusate c con due uguale a con due più b con due mezzi quindi questo qui in questo caso mi diventa b con due vado a fare di nuovo il punto medio e questo sarà c con due e che cosa farò adesso? ripeterò il ragionamento quindi io avrò lo voglio ripetere ancora una volta prima di fare il caso generale avrò f di c con due se è uguale a zero mi fermo se è maggiore di zero cosa farò? farò che a con due a con tre è uguale ad a con due e b con tre è uguale a c con due se è minore di zero a con tre sarà uguale a c con due e b con tre sarà uguale a b con due cioè mi sposto sempre dalla parte inseguo il cambiamento di signo poi ovviamente farò c con tre uguale a con tre più b con tre mezzi beh adesso è inutile che io lo ripeta ogni volta supponiamo di essere arrivati a costruire a con n b con n c con n che sarà a con n più b con n mezzi quale sarà quale sarà la caratteristica costante avremo sempre f di a con n f di b con n positivo anzi avremo avuto perché se siamo arrivati fino a qua vuol dire che non ci siamo fermati mai a con n chiaro? a questo punto cosa facciamo per intruzione? andiamo a valutare f di c con n se è uguale a zero se f di c con n è uguale a zero mi fermo se è maggiore di zero porrò a con n più 1 uguale a con n b con n più 1 uguale c con n se è minore di zero porrò a con n più 1 uguale c con n b con n più 1 uguale b con n e poi porrò c con n più 1 uguale a con n più più b con n più mezzi ok? allora a questo punto vado ad esaminare quello che succede se esiste un n tale che appartenente a n tale che f di c con n sia uguale a zero il teorema è vero perché? vuol dire l'ho trovato lo zero altrimenti ho costruito due successioni la successione a con n che è monotona non decrescente per quale motivo? se ci fate caso a con n a con n più 1 o è uguale a con n o è uguale a c con n ma c con n è più grande a con n quindi quando a ogni passaggio a con n o rimane uguale o si sposta verso l'altra successione b con n invece è monotona non crescente perché b con n o rimane uguale oppure è uguale a c con n ma c con n essendo il punto medio stavolta b con n si sposta verso sinistra inoltre abbiamo che a con n è maggiore o uguale a che è minore o uguale di b con n che è minore o uguale di b quindi le due successioni oltre che monotone sono anche limitate essendo due successioni monotone limitate per il teorema della regolarità delle successioni monotone sappiamo che hanno limite finito quindi chiamiamo il limite degli a con n che sarebbe estremo superiore degli a con n lo chiamiamo l1 mentre il limite dei b con n che è l'estremo inferiore dei b con n lo chiamiamo l2 allora a priori io cosa so? so soltanto che l1 è più piccolo di l2 perché nonostante questo sia il sub e questo sia l'inf tuttavia gli a con n sono sempre minore di b con n quindi quando passano al limite il limite di sinistra della successione che è più piccola è più piccolo del limite della successione di b con n tuttavia l2 meno l1 è uguale anche al limite di b con n meno a con n se questo va l1 questo va l2 il limite della differenza è uguale alla differenza ma questo qui b con n meno a con n è uguale a b meno a fratto 2 alla n perché? questo metodo che noi abbiamo illustrato si chiama se stiamo illustrando si chiama metodo di b sezione cioè a ogni passaggio che succede alla lunghezza con n e b con n spacchi a metà ne prendi una metà si dimezza quindi dopo se all'inizio la lunghezza dell'intervallo era b meno a l'intervallo a b ha lunghezza b meno a dopo n passaggi la lunghezza sarà b meno a fratto 2 fratto 2 fratto 2 n volte quindi b meno a fratto 2 alla n ma quando vado a fare il limite di questa quantità ovviamente mi viene 0 perché b meno a è costante 2 alla n tende a più infinito e quindi questo limite fa 0 quindi in realtà l1 uguale l2 e questo è il punto che chiamiamo xi ok? adesso andiamo a vedere cosa succede siccome f di a con n per costruzione è minore di 0 per ogni n noi cosa sappiamo? che il limite di f di a con n questo limite esiste ed è uguale a f di xi perché la funzione è ecco inua ma siccome questi erano tutti minori di 0 questo limite deve essere per forza minore o uguale di 0 per intera la permanenza del segno questa è una successione se invece adesso vado ad esaminare f di b con n lo scrivo qua f di b con n è maggiore di 0 per ogni n quindi adesso quando vado a fare il limite di f di b con n questo qua pure lui è uguale a f di xi ma in questo caso passando al limite da quantità positive beh il termine permanenza del segno il limite non può essere negativo quindi avrò f di xi maggiore o uguale di 0 allora da qui ottengo che f di xi non è negativo da qui ottengo che f di xi non è positivo mettendo le due cose in 0 f di xi deve fare 0 ok allora lo ripeto ripeto quest'ultima parte allora la prima parte della dimostrazione noi abbiamo messo in piedi un meccanismo iterativo un meccanismo per induzione nel quale andiamo sempre metodo di p sezione si chiama nel quale ogni volta spacchiamo l'intervallo alla metà andiamo a vedere la fusione del puntamento se la fusione del puntamento si annulla abbiamo fatto altrimenti andiamo avanti e reiteriamo la cosa spostandoci dalla parte cioè creando un intervallo con n più 1 p con n più 1 in cui la funzione sul primo estremo sia sempre negativa e la funzione sul secondo estremo sia sempre positiva cioè inseguiamo il cambiamento di segno che c'era all'inizio allora ci sono due possibilità o diciamo questo algoritmo finisce dopo un numero finito di passi e allora siamo a posto altrimenti abbiamo costruito due successioni una successione monotona non decrescente a con n l'altra successione è monotona non decrescente le due successioni sono anche limitate e invece diciamo in questa relazione da queste due attività allora che cosa succede? che questa successione a con n converge a l1 salendo di con n invece converge a l2 scendere in realtà l1 e l2 sono lo stesso punto però non lo posso dire a priori lo devo dire osservando che b con n meno a con n tende a 0 e attenzione non posso neanche dire che siccome b con n meno a con n tende a 0 questi hanno limite sono uguali devo prima osservare che abbiano limite e poi devo osservare che i due limiti sono uguali una volta fatto questo questo limite comune questo punto lo chiamiamo psi questo è lo 0 perché sostanzialmente perché io a questo punto mi posso avvicinare da sinistra con valori negativi della funzione da destra con valori positivi della funzione ma siccome la funzione è continua vuol dire che il valore della funzione nel punto deve essere non negativo non negativo e non positivo non negativo e non positivo quindi questo è il teorema è pienamente di questo se vogliamo vedere da un punto di vista grafico se vogliamo vedere da un punto di vista grafico qui che succede? allora io continuo a fare i punti medi continuo a fare i punti medi allora vedete che mano mano che di mezzo il mio intervallino i miei intervallini vanno a stringere sempre di più questo zero dice ma c'è una regola per capire quale zero becco no ne becco uno chiaro? se il punto medio fosse stato qua il primo punto medio e io allora il cambiamento di segno è stato da questa parte e beccavo questo chiaro? a il metodo di disezione comunque va a stringere se non becca direttamente uno zero della funzione si va fa in modo che le successive a con n e b con n stringano su xi che poi sarà uno zero va bene adesso facciamo un po' di esempi grazie a tutti esempio esempio 1 f di x uguale x l'intervallo è diciamo da meno 3 a 1 vale il termine degli zeri? sì, la funzione è continua f di meno 3 vale meno 3 f di 1 vale 1 c'è il cambiamento di 6 mi sapreste dire se il metodo di bisezione va avanti, diciamo, costruisce la successione oppure finisce dopo un numero finito di passi? allora qua siamo da meno 3 fino a 1 al primo passo che cosa devo fare? a meno 3 la funzione vale meno 3 a 1 la funzione vale a 1 1 1 al primo passo cosa faccio? costruisco il punto? 3 yeah 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 io te lo ho più adatto a oggi non è che ci vuole meno 1 meno 1 meno 3 più 1 fa meno 2 diviso 2 fa meno 1 quindi quale la funzione è? c mega? al secondo passo cosa devo fare? quindi questo è a con 2 mentre b con 2 rimane 1 al secondo passo che devo fare? di nuovo il punto meno quindi questo è c con 2 c con 2 quant'è? 0 e quindi in questo caso lo 0 l'ho beccato al secondo passo e se ci mettevo meno x che cambiamo? non cambiava perfettamente niente al primo passo mi spostavo sempre a destra perchè il cambiamento di segno è stato da questa parte al secondo passo beccato l'ho beccato chiaro? quindi in questo esempio il teorema funziona le ipotesi sono soddisfatte la tesi ovviamente è vera l'abbiamo dimostrata e possiamo notare che lo 0 lo trovo in soli due passi esempio 2 f di x uguale x meno radica al 2 l'intervallo è 0 2 allora f di 0 è uguale a meno radica al 2 f di 2 è uguale a 2 meno radica al 2 è uguale a meno radica al 2 la situazione è questa ma qua siamo a 2 qua siamo a radica al 2 ok? passiamo a meno radica al 2 ok? è vero il teorema? c'è la funzione è continua in a ha un valore negativo qua c'è un valore che è positivo e quindi si annulla dove si annullerà? qua è facile fare il punto si annulla nel punto radica al 2 la domanda però è quando vado a fare il mio metodo di bisezione stavolta quanti passi ci vogliono per beccare lo 0? 2, 3, 10 allora il primo punto medio sarà 1 il secondo punto medio sarà 1,5 3,5 il punto medio sarà 1,2 il terzo punto medio sarà 5,4 3,5 sono 6,4 1 sono 4,4 4,5 allora la mia domanda è quanti passi ci vogliono per beccare la radica al 2 allora uno dice non lo becchi mai cioè devi costruire la successione devi fare la seconda parte del ragionamento perché non lo becchi mai? siete in grado di mostrare che c con n siccome a e b erano numeri in questo caso interi addirittura ma se a e b sono numeri razionali come sono definiti a con n b con n e c con n o sono uguali a quelli di prima o sono in punto medio quindi una semisomma di numeri razionali sarà ancora un numero razionale quindi c con n a con n p con n e c con n sono razionali per ogni n quindi in questo caso a con n ottenuta in q e b con n invece pure allora cosa sappiamo noi? che radica al 2 in q non ci sta l'abbiamo dimostrato quindi che vuol dire? vuol dire che non lo becchiamo mai non lo becchi mai esattamente tu hai 1,5 1,25 1,375 1,40 e qualche cosa sarà sempre 1,41 tra 1,41 e 1,42 tra 1,41 e 1,45 e così via cioè lo approssimi sempre meglio con a con n e b con n ma non lo becchi mai mai esempio 3 adesso abbiamo preso la funzione x quadro meno 2 è vero ancora il teorema? cioè il teorema è sempre vero si può applicare in questo caso allora la funzione è e continuano e il prodotto di funzione è continuo più un'altra costante che è continuo qui è continuo in a c'è un valore nega in b ha un valore così si può applicare il teorema? si dove si annulla la funzione? anche in questo caso era facile da fare allora a 2 vale 2 a 0 vale meno 2 però si annulla nel punto come prima radica 2 la funzione non è la stessa di prima domanda se vado ad applicare adesso il metodo di misezione questo 0 lo becco vabbè qua ho disegnato la misura del grafico non c'è neanche da questa altra parte vabbè no la funzione è tra 0 e 2 ok tra 0 e 2 grazie ok allora la domanda è quando vado ad applicare il metodo di misezione lo 0 in questo caso è unico lo trovo direttamente o ci vuole sempre la successione come si fa a trovare un 0? con lo stesso metodo di primo punto me punto me punto me punto me punto me allora i punti medi di razionali sono sempre razionali lo 0 sta sempre dove stava prima e quindi lo becco direttamente ci vuole la successione ci vuole la successione esempio 4 prendiamo la funzione f di x uguale segno di x allora x appartiene all'intervallo meno 1 1 allora come è fatta la funzione segno di x? sui numeri negativi vale meno 1 sui numeri positivi vale più 1 e in 0 vale 0 allora a noi interessa tra meno 1 e 1 allora cambia la funzione nell'intervallo di riferimento allora posso applicare il teorema? posso applicare il teorema? sì o no? neanche per sogno neanche per sogno per applicare il teorema la funzione deve essere? è continua al punto 0 nel punto 0 se voi andate a fare vi avvicinate da sinistra vedete che i valori della funzione valgono meno 1 sempre se fate quello che poi chiameremo il limite sinistro viene meno 1 se fate il limite da destra viene 1 la funzione del punto vale 0 quindi il teorema non lo posso applicare il cambiamento di segno c'è la meno 1 basta per 0 lo 0 ci sta? due errori non fanno una cosa giusta il fatto che io non posso applicare il teorema non significa lo 0 non ci sta lo 0 c'è f di 0 vale 0 ma io non posso applicare non lo tenerò applicato il teorema ci sta perché ci sta ma non per il teorema se io andassi a applicare quel metodo di bisezione il metodo me lo dà anche a prima volta perché faccio il punto metodo da meno 1 e 1 viene 0 f di 0 vale allora facciamo un'altra cosa facciamo segno di x più un mezzo che significa più un mezzo? è come abbassare l'asse delle ascisse di un mezzo è la stessa cosa no? quindi stavolta a 1 la mia funzione vale 3 mezzi cioè sui positivi la mia funzione vale 3 mezzi sui negativi la mia funzione vale meno un mezzo e in 0 stavolta la funzione vale un mezzo la funzione a parte che lo hazzato in una costante come si soddisfa le stesse ipotesi di prima sicuramente c'è il cambiamento di segno sicuramente è continuo dappertutto tranne che nel punto 0 adesso posso applicare il teorema? no perché la funzione non è continua ci sta lo 0 stavolta non ci sta allora che succede quando io vado a fare il mio metodo di bisezione guardate cosa succede allora cosa succede? all'inizio f di a1 ha meno un mezzo f di b4 e meno poi faccio il punto medio f di 0 f di 0 com'è? positivo positivo quindi f di a1 oltre negativo quindi da che parte rispondo? da questa parte qua il grave funziona è fatto così quando vado a fare i successivi punti medi avrò sempre il cambiamento di segno sta a destra quindi cosa farò? f di a con n sarà sempre meno un mezzo f di e b con n sarà sempre 0 allora cosa vi succede? che a con n tende a 0 da sinistra e b con n da b con 2 in poi è sempre 0 però vedete che f di b con n che sono valori positivi tende a un valore positivo per il 3 ma è in mezzo del segno f di b con n vale sempre un mezzo mentre f di a con n vale sempre meno meno un mezzo quindi dove abbiamo sfruttato l'ipotesi di continuità nel teorema se andiamo a rivedere il nostro teorema l'unico punto dove abbiamo sfruttato l'ipotesi di continuità è questo fino a un istante prima tutto quello che potevamo fare che avevamo fatto lo potevamo fare senza che la funzione fosse continua e qua che sfruttiamo la continuità perché se la funzione è continua f di a con n deve tendere a f di b se vi ricordate no abbiamo istritto il teorema con l'altra e f di b con n è pure delle tende da fx solo qua abbiamo sfruttato la continuità altrimenti quando tu cosa avrai? avrai da sinistra dei valori positivi e da destra dei valori negativi e da destra dei valori positivi e semplicemente magari la poi vedremo ci sarà quello che chiamiamo un salto potrebbe esserci un salto o comunque un punto di riscontabilità della funzione quindi l'esempio 3 e 4 li dovete meditare un attimo cosa significa? significa che se io ho che le ipotesi di un dilemma sono soddisfatte la tesi è necessariamente vera ma se le ipotesi di un teorema non sono soddisfatte nell'esempio 3 la tesi era vera lo stesso nell'esempio 4 la tesi non è vera manco per niente è chiaro? se non è chiaro cioè avete un serio problema di transistor dovete metterlo a posto perché deve essere chiarissimo facciamo altri due esempi in questo esempio esempio 5 e 7 esempio 5 prendiamo f di x uguale x quadro meno 1 allora x appartiene a meno 1 1 la scuola meno 2 2 qua siamo a 2 e la funzione vale 3 qua siamo a 0 la funzione vale meno allora la funzione è continua? sì posso applicare il tonalare degli zeri? no qua il valore nella funzione agli estremi c'è lo stesso segno non lo posso applicare a tenere gli zeri ci stanno gli zeri della funzione? sì ce ne stanno a 2 una di qua una di là meno 1 ma non perché diciamo non perché vale il tonalare degli zeri vale ma qua non lo posso applicare prendiamo per esempio la funzione simile f di x uguale x quadro più 1 stavolta in 0 la funzione vale 1 e a meno 2 e a 2 la funzione vale 5 la funzione è continua sì il cambiamento di segno non c'è e lo 0 col fischio che stavolta l'ho trovato è chiaro? a queste due funzioni non lo potete applicare il problema degli zeri perché il cambiamento di segno non ci sta sul continuo ma il cambiamento di segno non ci sta dopodiché qua capita che lo 0 ci sia e qua ce ne sono 2 qua capita che lo 0 non ci sia quindi se vale il teorema degli zeri ci sta almeno lo 0 ma se non vale la funzione fa come gli pare alcune hanno gli zeri altre no alcune hanno gli zeri anche se non solo continua alcune hanno gli zeri anche se non c'è il cambiamento di segno altre no è chiaro questo è il teorema degli zeri ok allora adesso possiamo fare le parole grazie a tutti